Avete studiato psicologia e volete fare nella vostra professione? Vi hanno detto che non troverete mai lavoro? Vi sentite confusi perché dopo tanti anni di studio siete consapevoli di non avere gli strumenti adatti a svolgere la vostra attività? Posso comprendere tutti i vostri dubbi? Ma se avete la curiosità di scoprire qualche cosa di pratico e concreto che vi possa aiutare nel lavoro quotidiano con i pazienti dovreste considerare con attenzione la specializzazione in terapia cognitivo-comportamentale, una terapia che è basata sull'evidenza scientifica in grado di dare una risposta ai reali bisogni dei pazienti e di offrire sicurezza al terapeuta che può utilizzare strumenti validati empiricamente ed efficaci. In un percorso terapeutico le persone hanno bisogno di trovare la risposta al loro problema. Ad esempio se una mamma ha un figlio con un benefici dell'attenzione e iperattività, l'intervento psicoterapeutico consigliato nelle linee guida dei neuropsichiatri italiani è quello cognitivo-comportamentale. Anche per un paziente che soffre di una forma grave di disturbo ossessivo compulsivo, la terapia universalmente considerata efficace e quella cognitivo-comportamentale. Ma torniamo ai vostri dubbi e alle vostre incertezze. Voi state valutando come investire al meglio 4 anni della vostra vita e se ritenete di volere un approccio pratico e operativo vi invito a venire a trovarci presso il nostro istituto per vedere come lavora un terapeuta cognitivo-comportamentale con adulti e bambini. All'istituto Watson potrete partecipare a delle lezioni e potrete anche iscrivervi alla settimana da psicoterapeuta per poter assistere alle sedute e ai colloqui. Potrete anche visionare un centinaio di filmati di casi trattati. Io ritengo che sia estremamente importante partecipare ai trattamenti per poter capire come si conduce un intervento terapeutico. Si impara vedendo e facendo ed è così che formiamo all'istituto Watson i futuri terapeuti. Rinnovo l'invito a venirci a trovare presso il nostro istituto e per avere maggiori informazioni potete prenotare un colloquio.